Perché io ricordo, anche in Italia, non ammazzino. Grazie. Anche che ciò che non è. Invece si c'è un po' lì. Siamo oggi. Dico quando... Siamo oggi. Siamo oggi. Siamo oggi. Siamo oggi. Io ti penevo a lasciarvi lo stesso tempo. Ecco, qual'è la prima parte più bella? Sì, secondo me è la cosa più profana. si contiene un piccolo mezzo oppure io sto no 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 metti mezzo ti ha bisogno di usare il pc io cercavo solo Presidente e Previdente però adesso apriamo con una piccola introduzione Presidente Fa si e poi io seguo vi presento e noi abbiamo questa associazione che ha il conto alla grida voltellinese quindi come tale ci dà la possibilità di usare la stanza si chiama l'associazione Gabriele Marvelli è un nostro professore di fisica per commemorarlo abbiamo costruito è verso aprile solo che adesso per rendere la catona come persone fisiche però oltre alla fisica questi altri sono tutti fisici no ma non parliamo di fisica comunque adesso do la parola penso che possiamo cominciare grazie a tutti per essere venuti grazie ai nostri ospiti allora io sono Eugenio Piosini volevo fare un breve saluto e una breve introduzione per chi non ci conosce riguardo all'associazione Gabriele Marveggio che è chi organizza questo incontro di oggi l'associazione è un'associazione molto giovane formalmente esistiamo solo da pochi mesi in realtà informalmente esistiamo già da un tempo un pochino più lungo per la precisione dal 2013 quando il professor Gabriele Marveggio purtroppo è mancato precocemente Gabriele Marveggio era un docente di fisica dei licei e delle scuole superiori qua della provincia di Sondrio alcuni di noi hanno avuto la fortuna di averlo come insegnante ai tempi e poi anche come amico personalmente una volta lasciata la scuola e negli anni successivi il suo metodo di insegnamento e un po' anche il suo approccio alla vita se volete era basato sullo stimolare la curiosità e la vivacità intellettuale degli studenti al di là di quello che erano i dettagli dei programmi ministeriali mettendo così gli studenti costantemente nella condizione di interrogarsi sul mondo e sul ruolo che loro avevano nel mondo noi quando poi lui purtroppo è mancato cercando di raccogliere un po' dello spirito che lui ci ha lasciato abbiamo insomma cercato di fare cercato di fare la nostra parte per la precisione adesso sono quattro anni che organizziamo appunto un incontro annuale che è un convegno di fisica e di scienze destinato agli studenti di liceo e delle superiori nel quale incoraggiamo gli studenti a sviluppare dei piccoli progetti di ricerca in maniera indipendente ma anche interagendo con dei ricercatori accademici da varie università d'Italia e anche dall'estero appunto per cercare di diciamo preservare e promuovere quello spirito che ci aveva lasciato il professor Marveggio ora venendo a noi oggi qui questo è già il secondo incontro che organizziamo sulla riforma costituzionale come associazione abbiamo pensato che appunto questo argomento della riforma costituzionale fosse l'occasione perfetta per cercare di estendere un po' la nostra attività e il nostro contributo a un settore un po' diverso della società locale cercando sempre di seguire quei valori di cittadinanza attiva informata e responsabile che pensiamo che siano nient'altro che diciamo la realizzazione più alta a livello sociale di quelli che già noi cerchiamo di promuovere con il nostro lavoro nelle scuole ora io lascio a Gioele il compito di introdurre gli ospiti di oggi vi ringrazio molto per essere venuti ringrazio gli ospiti e ringrazio anche il credito valterinese che ci ospita qui nella sala vitali grazie grazie mille Eugenio io come tradizione sia nei conveni di Marveggio sia lo scorso evento voglio introdurre leggendo due frasi citando due personalità che vogliono trasmettere un po' quello che è uno dei principi ispiratori dell'associazione e di quello che vuole essere il modo di porsi dell'associazione la prima è di Gaetano Salvemini noi non possiamo essere imparziali possiamo essere soltanto intellettualmente onesti cioè renderci conto delle nostre passioni tenerci in guardia contro di esse e mettere in guardia i nostri lettori contro i pericoli della nostra parzialità l'imparzialità è un sogno la probità è un dovere l'altra frase invece è di Nice è un noto filosofo il miglior modo di corrompere un adolescente è insegnargli a stimare chi la pensa nello stesso modo più di chi la pensa diversamente introduco i due relatori di oggi che sono Stefano Buffagni che è consigliere regionale alla regione Lombardia per il Movimento 5 Stelle e il senatore Benedetto Della Vedova che è sottosegretario del Ministero degli Esteri adesso come alcuni di voi sapranno per l'incontro precedente abbiamo mostrato le stesse slide c'era un costituzionalista che spiegava le differenze tra la costituzione vigente e la riforma andremo a ripercorrere le stesse slide per facilità di quelli che hanno già assistito al primo incontro ma vuole essere non vuole essere un'esposizione frontale ma vuole essere un dialogo col pubblico quindi io lascerò un tempo determinato per il sì e per il no per trattare i vari argomenti alcuni richiederanno più tempo altri magari meno raccoglieremo le vostre domande e cercheremo di staurare un dialogo appunto con voi soprattutto verso la fine cercando di avere un dibattito grazie mille per la presenza e buon proseguimento partiamo dal bicameralismo perfetto e imperfetto per essere corretti e trasparenti si andrà in questo modo facciamo aprire al sì seguire il no al prossimo argomento inizierà il no e risponderà il sì così fino alla fine ditemi voi quanto tempo tendete seguire per i vari argomenti partiamo con quattro minuti per questo argomento d'accordo? perfetto partito comincio comincio io ah sì grazie no vi ringrazio molto per questa occasione che nasce da un incontro casuale in treno con Gioele peraltro allora perché si riforma una costituzione? la costituzione si riforma per tante ragioni questa si è deciso di riformarla perché essendo una costituzione fatta subito dopo il fascismo era una costituzione che non è la parte dei valori la parte dei valori resta intatta anzi casomai c'è un'aggiunta in termini di principi fondamentali che deriva dal fatto che nella riforma noi abbiamo previsto che le leggi elettorali debbano garantire un'uguaglianza di genere una parità di genere che nella costituzione precedente non c'era ma perché erano altri tempi però noi ci siamo occupati invece della seconda parte della costituzione forma di stato di governo organizzazione delle amministrazioni eccetera allora si decise per quanto riguarda il processo legislativo di prevedere due camere con un sistema appunto di bicameralismo cioè due camere qualcuno dice perfetto poi mi hanno spiegato che è meglio dire ripetitivo o paritario cioè due camere che fanno esattamente a me è capitato sia il deputato che il senatore cambia nulla è solo che il senatore è un po' più vecchio ma per il resto è tutto identico cioè Camera e Senato fanno esattamente la stessa cosa alla lettera danno la fiducia al governo e la tolgono votano ciascun elemento legislativo nel medesimo testo se uno poi lo cambia torna indietro si ricambia eccetera c'è qualcosa di male in questo di antidemocratico no abbiamo avuto per 68 anni una costituzione che prevedeva questo però già 30 anni fa non Renzi o Laboschi già 30 anni fa Spadolini ma poi la commissione Bozzi cioè tutti i politici anche quelli riconosciuti di grande qualità da 30 anni a questa parte avendo capito che questa particolarità di due Camere fanno esattamente la stessa cosa che c'è solo nella Costituzione italiana poi questo non vuol dire necessariamente che sia sbagliato però non è casuale che ci sia solo da noi che questo bicameralismo ripetitivo e paritario finiva ormai pensato allora per evitare che ci fossero troppi poteri dopo il fascismo finiva ormai per essere un elemento di appesantimento della funzione legislativa spesso di ritardo spesso potrei anche fare l'elenco le leggi che non vengono chiuse in una legislatura e vengono riprese paro paro nella legislatura successiva si è deciso quindi di intervenire ma è una discussione di 30 anni facendo tesoro di tutte le cose che erano state fatte in passato si è deciso di arrivare a un bicameralismo molto differenziato prevedendo una camera che fa il lavoro principale la camera dei deputati cioè dà e toglie la fiducia al governo e fa sostanzialmente tutte le leggi principali e di prevedere invece un senato che passa da 315 membri a 100 membri 5 eletti nominati da scusate dal presidente della repubblica 95 eletti dai consigli regionali secondo le indicazioni per fare una camera dove sedessero rappresentanti delle regioni e dei comuni con poteri completamente diversi da quelli di oggi con una partecipazione all'attività legislativa in pochi settori poi se volete li vediamo nel dettaglio ma insomma poche competenze la riforma costituzionale si farà di nuovo col senato per dirne una però sul resto della legislazione no quindi un senato che si occupa di rappresentare le regioni con poteri più limitati elezione del presidente della repubblica sì elezione dei giudici costituzionali sì riforme della costituzione sì altre leggi ordinarie no fiducia al governo no un senato che cambia quando cambiano i consigli regionali non è che dura cinque anni cioè tu vai lì finché dura il consiglio regionale che ti ha eletto poi ne arriva un altro che partecipa all'elezione del presidente della repubblica che può richiamare le leggi che non gli piacciono guardarle restituirle alla camera con alcune osservazioni poi la camera decide se accettare quelle osservazioni salvo che la costituzione preveda per quelle poche leggi che debba esserci un concorso di entrambe le camere quindi un sistema un po' più semplice che porta la rappresentanza delle istituzioni la mantiene e la amplia ma che dà a una camera sola il ruolo principale come succede in quasi tutti i paesi con regimi parlamentari a bicameralismo differenziato chiudo gli Stati Uniti hanno due camere che fanno grosso modo le stesse cose anche loro sì però hanno il presidente della repubblica eletto direttamente che guida l'esecutivo perfetto 5 minuti è incomiabile il fatto che degli studenti hanno un'associazione per ricordare si sente sì ma forse anche senza perché c'è una registrazione ah perdono per ricordare un loro professore quindi è una bellissima iniziativa per entrare subito nel merito della riforma costituzionale il testo del quesito parla di superamento del bicameralismo paritario cosa significa quello che diceva prima il senatore ovvero che oggi abbiamo un cosiddetto ping pong di provvedimenti tra i due rami del Parlamento quindi Camera e Senato finché non approvano entrambi lo stesso testo di legge una legge non è effettiva questo per qualcuno è un problema fino ad oggi qualcuno lo ha sempre presentato come un impedimento alla velocità del lavoro delle attività parlamentari un meccanismo che non dà efficienza al paese sono state dette tante cose quello che noi riteniamo è che è necessario superarlo questo bicameralismo parliamone il problema è che quello che noi abbiamo visto all'interno di questo testo di riforma come vi veniva spiegato prima è che non viene superato il bicameralismo perché per fare degli esempi in futuro per riformare ulteriormente la Costituzione e nello specifico dal nostro punto di vista ci sono tre punti che magari più tardi vi dirò sui quali è necessario riformare la Costituzione non sarà più necessario o perlomeno non sarà più requisito sufficiente il voto dei cittadini per poter esprimere una modifica della nostra Costituzione cioè un domani non sarà automatico che chi vince le elezioni prevedendo anche all'interno del suo programma elettorale un certo tipo di riforma costituzionale potrà veramente farlo al contrario di quello che è successo oggi ovvero che nessuno aveva anzi particolarmente chi oggi ci governa non aveva nel programma elettorale la necessità di fare una riforma per cambiare la Costituzione ha deciso di farlo in barba al rispetto degli impegni elettorali questo secondo me è un assunto di base che fa ragionare sul come sia strumentale fare questo tipo di passaggio ovvero ci stiamo preoccupando su quali rischi ci possano essere sul funzionamento della macchina amministrativa cioè scusate legislativa io rappresento il Consiglio della Regione Lombardia che è monocamerale noi abbiamo solo il Consiglio quindi è un po' una simulazione di una Camera futura cioè un domani se la riforma dovesse passare la Camera su alcuni temi o la maggioranza dei temi decide autonomamente ci è stato detto che in questo modo ci sarà più libertà di fare delle leggi sarà più facile perché avendo una maggioranza chiara non ci saranno limiti il problema che noi evidenziamo nel funzionamento della macchina amministrativa è che facendo un esempio un parallelismo sul Consiglio regionale della Lombardia oggi al posto di fare un rimpallo tra due Camere di una legge quando non c'è una chiara volontà da parte della maggioranza di approvarlo il testo non esce nemmeno dalle commissioni quindi il problema del rimpallo è un problema che ha un po' di facciata cioè sinceramente per farvi capire oggi per far approvare una cosa la Camera spesso approva dei testi di legge per fare anche a volte un po' di propaganda politica perché fa parte anche del gioco poi il testo va al Senato e sanno già che al Senato verrà insabbiato mi viene un esempio noi abbiamo approvato alla Camera una legge del Movimento 5 Stelle che è quella per la tutela del whistleblowing votata a larghissima maggioranza alla Camera oggi è arenata in Senato perché non è stata neanche messa in ordine del giorno un testo che si può condividere o meno politicamente secondo noi un dipendente di un'azienda che denuncia delle irregolarità va tutelato oggi in Regione Lombardia faccio un esempio un'azienda nostra di Lombardi Ferrovie Nord Milano ha visto decadere il suo ultimo presidente per degli scandali per intenderci perché usava i soldi dell'azienda per farsi gli affari propri ed è stato denunciato da un dipendente onesto bene quel dipendente onesto oggi non lavora più in FNM perché evidentemente l'hanno messo in condizione di andarsene ecco questa è una legge quindi che serve la Camera l'ha approvata e oggi è ferma il Senato quindi il problema non è sul bicameralismo se funziona o non funziona ma è su come lo si vuole far funzionare perché un domani anche con una singola Camera il problema non sarà il fatto che mancherà il rimpallo sarà la necessità di avere delle maggioranze stabili e uniformi all'interno del Parlamento che non si ottengono con le riforme costituzionali si ottengono con un miglioramento della classe politica con una chiarezza nel rispetto dei programmi elettorali dopo toccheremo un punto che è quello relativo per esempio ai poteri del governo nel quale vi cercherò di in un confronto appunto anche col Senatore far capire con degli esempi pratici al di là visto che voi avete già affrontato il tema più giuridico diciamo della riforma come poi nel funzionamento reale del Parlamento verrebbero fuori dei problemi e sul perché certi meccanismi non sono la soluzione di tutti i mali anzi quindi noi siamo convinti che se si voleva parlare di superamento del bicameralismo paritario lo si poteva fare ma ispirarsi a un nuovo Senato come in Germania che scusate non mi ricordo se si chiama Bundestrag non amo molto la Germania qual è la differenza innanzitutto che la Germania è uno stato molto più federale mentre qui in contemporanea mentre facciamo un cambiamento di costituzione andiamo a centrare molto i poteri sul Parlamento ma al contempo sono andato fuori chiudo al contempo lì sono rappresentati chi? i governi delle regioni cioè quelli che amministrano non come succederà nel nostro futuro Senato tutte le forze politiche perché a quel punto se Buffagni domani sarà un senatore della Repubblica per la Lombardia non andrà in qualità a difendere gli interessi lombardi visto che sono in opposizione a Maroni ma andrò come rappresentante del Movimento 5 Stelle quindi non riuscirò a rappresentare gli interessi lombardi se non in casi sporadici perché è stato impostato in un modo prendendo spunto dalla Germania un po' l'italiana lo definirei scusa sono andato fuori cazziami prima 6,50 vi dico prima un po' prima passiamo alla seconda slide oppure se volete fare un confronto su questo voi rispondergli come preferite fare andiamo avanti esatto quindi adesso questa è la seconda slide queste ripeto sono quelle che abbiamo già presentato sabato scorso quindi ridò la parola al no faccio ripartire ti risetto toglimi il minuto 50 ho capito toglimi il minuto 50 no no perché mi piacerebbe poi fare le domande tanto poi possiamo rientrare nelle domande allora quello che vediamo in questo passaggio è il fatto che noi non voteremo più le persone che andranno al senato che già di per sé secondo me è una cosa inaccettabile cioè nel momento in cui tu decidi di votare Buffagni in consiglio regionale a Lombardia lo hai votato per andare a fare il consigliere regionale poi Buffagni in accordo col suo gruppo decide che siccome politicamente io valgo di più di un altro perché è più comodo mandar me decidono che io potrò andare a fare un dopo lavoro e diventare anche un senatore della Repubblica quando voi mi avete votato per andare a fare il consigliere regionale già questo di per sé è una follia che abbiamo già visto però in Italia perché le province quelle province che ci è stato detto che sono state abolite in verità al momento esistono nella riforma costituzionale si dicono verranno abolite le province si viene tolto il nome provincia ma si chiameranno Arevaste o ad esempio a Milano città metropolitana e i consiglieri metropolitani esistono il Movimento 5 Stelle ad esempio a Milano ne ha uno e non l'ha votato nessuno se non altri consiglieri comunali quindi c'è una autovotazione da parte della politica per mettere dei politici in ruoli senza avere un consenso da parte del popolo ma per dinamiche di partito o di movimento politico io credo che sia già un errore sono convinto che piuttosto di fare una scelta di questo genere se il problema era mi ricollego la prima domanda il bicameralismo paritario valeva la pena togliere il Senato aveva più senso se si voleva fare pulizia se si voleva organizzare bene la macchina amministrativa perché altrimenti è difficile si toglieva il Senato si lasciava la Camera lasciando il potere ai cittadini di eleggerlo e si faceva più chiarezza perché io che devo andare a fare un dopo lavoro al Senato per andare a trattare alcuni temi che volenti o non volenti sono importanti perché il recepimento delle delibere europee signori oggi come oggi con la crescente aumento delle norme che arrivano dall'Europa sono importanti facciamo un esempio la famosa Bolkestein che è la liberalizzazione delle parti del commercio la faccio molto semplice quante vite tocca quante vite influenza tantissime i negozi le attività commerciali i tassisti nel nostro caso in Lombardia non abbiamo il problema del mare come si chiama dei balneari per intenderci perché non abbiamo il mare il nostro malgrado però influenzano o quelli che hanno le aree mercatali ovvero le persone che vanno a fare i mercati per intenderci noi gli stiamo influenzando la vita ecco io nel mio dopo lavoro dovrò andare là a intervenire su delle leggi che cambiano la vita delle persone e la influenzano oltre al fatto ripeto che io potrò votare la riforma costituzionale non contento di questo la cosa che per me è ancora più grave e paradossale e poi chiudo è che il senatore lo potrà fare anche un esempio per restare sempre in Lombardia il sindaco di Milano cioè il sindaco di Milano che è una città complessa otto secondi il sindaco di Milano sarà sindaco di Milano sindaco della città metropolitana senatore della Repubblica e gli auguro anche di avere la domenica una vita privata perché altrimenti io non so come possa fare a riuscire a seguire tutti questi problemi grazie adesso sei posto perfetto lascio la parola al sì mi alzo anch'io per non sapevo ci fosse il microfono ma guarda ripeto cioè il modo migliore per non sbagliare è non fare naturalmente si lasciava tutto così com'era tutti contenti e i nostri vecchi dicono piuttosto che niente ma i piuttosto oppure il meglio è nemico del bene questo processo alle intenzioni che ha come unico obiettivo quello di lasciare intatte le cose ma è già successo più volte più volte in passato a mio avviso come dire è un modo semplicemente per non fare nulla poi di perfetto non c'è niente sicuramente anche questa costituzione esattamente come quella che abbiamo da 68 anni ha una serie di cose che magari si dimostreranno migliorabili però è evidente che il meccanismo per cui le leggi passano da una camera all'altra era un meccanismo fatto per rendere più difficile quasi impossibile in alcuni casi se le minoranze o a maggior ragione le maggioranze non volevano arrivare al processo legislativo noi abbiamo fatto un conto dalle 260 proposte di legge che sono passate sarebbero state bicamerali quelle di questa legislatura con una decina insomma 10 leggi su 263 anche meno volendo quindi è evidente che c'è una divisione netta sulla normativa europea non sono le direttive che diventano bicamerali questo è un grosso errore no non il recepimento delle direttive ma le leggi che regolamentano la modalità di recepire le direttive è una differenza piuttosto significativa cioè noi prevediamo che le leggi che riguardano l'architettura istituzionale del paese quindi anche le leggi che riguardano le modalità con cui ci si rapporta alla legislazione dell'Unione Europea devono essere bicamerali mi sembra giusto non la singola legge che viene recepita che resta monocamerale in prevalenza cioè che riguarda solo la Camera quindi in conclusione su questo punto io lo vedo un passo avanti poi si può sempre discutere di tutto si può sempre avere scarsa fiducia in se stessi ma il fatto che non c'è nessun obbligo che uno che non vuole vada a fare il senatore c'è e penso che uno possa essere deputato regionale consigliere regionale dei 5 stelle andare al senato e non prendere e continuare in quella funzione lì a portare gli interessi della regione Lombardia non ci vedo niente di strano poi non so come è fatto il partito il movimento dei 5 stelle ma altrimenti uno va eletto leghista va a Roma e difende nelle competenze che avrà come senatore gli interessi della regione Lombardia e questo funziona così in generale negli organismi federali tu ti trovi a difendere gli interessi delle regioni in generale o della tua regione in particolare sia che sei di destra che di sinistra questo succede per esempio al Parlamento Europeo dove c'è l'elezione diretta dei membri in liste di partito ma poi quando sei lì mediamente tu intervieni come legislatore europeo sui principi generali sulle leggi che tu pensi debbano servire a tutti i cittadini europei quando ci sono elementi specifici è fisiologico che ci si ritrovi magari tra deputati europei italiani di destra o di sinistra di sopra o di sotto ci si ritrovi perché si ritiene che è in discussione un interesse dell'Italia quindi non c'è niente di così strano certo bisogna avere fiducia nei propri mezzi e nei propri eletti poi avremo tutto il tempo con la nuova costituzione anche di valutare gli effetti naturalmente perché e chiudo i grandi padri costituenti tra loro c'erano personaggi di una certa qualità che avevano espresso dei giudizi molto negativi sulla costituzione che abbiamo avuto per 68 anni insomma che ha funzionato discretamente ci ha garantito la libertà ci ha garantito comunque un progresso economico che ci ha portato dall'immediato dopo guerra ad oggi eppure dicevano ah peste corna di quella costituzione in alcune cose ci hanno preso cioè dei problemi che noi vogliamo correggere in altre no quindi io non drammatizzerei più di tanto certo c'è un modo per non sbagliare che è quello di non fare però imputare con un pre giudizio chissà quali intenti e quali effetti catastrofici secondo me è un modo semplicemente per dire non facciamo niente e teniamo tutto quello che c'è così com'è perfetto 5 minuti e 23 secondi io qua faccio una domanda visto che tocchiamo il tema vi chiedo di rispondere a entrambi i senatori sono eletti o nominati sì e poi no ma i senatori ci dovrà essere una legge quadro per esempio quella che la maggioranza in particolare il PD insomma hanno previsto di portare a compimento davanti alle camere è il disegno di legge Chiti ma comunque sia saranno i consigli regionali a eleggere come consigli regionali quindi i rappresentanti che andranno al senato che saranno eletti dentro i consigli regionali poi può essere che si arrivi a definire una legge elettorale specifica per cui tu voti da lista regionale già sapendo che lui piuttosto che un altro ricoprirà il ruolo di senatore anche qui c'era un modo migliore c'era l'elezione diretta il problema dell'elezione diretta qual è che ci veniva contrapposto dice se tu gli eleggi i deputati e i senatori allo stesso modo cioè con un voto diretto allora devi questo era l'orientamento prevalente devi consentire anche i senatori eletti direttamente di dare e togliere la fiducia al governo e allora si tornava nel campo delle sette pertiche allora non bisognava cambiare niente nel momento in cui ma questo diciamo è costituzionalismo comparato basta vedere quello che succede all'estero appunto in Germania addirittura mandano i funzionari i governi noi abbiamo ritenuto che fosse più utile al paese e più rispettoso della storia della tradizione italiana prevedere dei rappresentanti dei consigli regionali non delle giunte che poi possono cambiare possono essere di destra e di sinistra noi abbiamo ritenuto che al senato per la regione Lombardia ci siano i leghisti se la lega in maggioranza ma ci siano quelli del movimento 5 stelle quelli di Forza Italia eccetera quindi se tu non vuoi che il senato dia e tolga la fiducia perché se no siamo appunto a capo deve essere il consiglio regionale a eleggerli poi ci sarà una legge elettorale per la regione che potrà specificare da subito magari nella lista che quei due se si raggiunge la quota necessaria naturalmente se uno non fa voti non ci avrà né consiglieri regionali né consiglieri regionali che fanno i senatori quei due verranno indicati come membri del senato funzionerà non funzionerà vediamo ma il meccanismo è chiaro è anche abbastanza semplice io rispondo leggendo l'articolo della costituzione che è molto più chiaro i consigli regionali e i consigli delle province autonome di Trento di Bolzano eleggono con metodo proporzionale i senatori fra i propri componenti nella misura di uno per ciascuno fra sindaci dei comuni dei rispettivi territori e nella misura di uno per ciascuno fra sindaci dei comuni e rispettivi territori quindi l'unica certezza che abbiamo è che non lo votano i cittadini poi sul come affronteremo anche questo passaggio la cosa paradossale che fa un po' sorridere è che per esempio la Valle d'Aosta che ha 136.000 abitanti avrà due senatori voi Valtellina esprimete un consigliere regionale su 80 e per la legge dei grandi numeri difficilmente il vostro consigliere regionale potrà essere uno dei senatori a rappresentare le vostre istanze quindi il paradosso è che la proporzionalità esiste solamente all'interno dei consigli regionali per esempio la Lombardia già per farvi capire anche gli squilibri che quindi non rappresentano in maniera proporzionale poi il Senato sempre la Valle d'Aosta da 136.000 abitanti avrà due senatori la Lombardia da quasi 10 milioni di abitanti ne avrà 14 quindi fate un rapido calcolo delle proporzioni e quindi questo è il motivo per il quale io prima vi dicevo che difficilmente poi io che sono eletto senatore con i 5 stelle riesco a difendere gli interessi della Lombardia perché in 14 su 100 voteremo quell'emendamento insieme va bene perché poi sui territori diciamo ci abbiamo provato però non hai una forza tale da rappresentare le istanze vere del tuo territorio perché poi le dinamiche parlamentari che io ho visto nel consiglio regionale diventano di tipo politico questo è il motivo per il quale io prima vi facevo la differenza tra la Germania e l'Italia dove avendo uno stato federale sono rappresentati solo i governi perché chi ha vinto io sono un po' dispiaciuto che abbia vinto Maroni però ha vinto chiaramente a quel punto va a Roma e porta avanti le battaglie locali che lui ha nel suo programma elettorale rappresentando a quel punto il parere dei cittadini questo è un paradosso di funzionamento della macchina che lascia un po' ma è perplesso voi vi farete la vostra idea è stato velocissimo perfetto allora proseguiamo composizione del senato ma vogliamo vediamo quello dopo questo abbiamo già tenuto in considerazione vuoi riniziare qua da questo o prossimo al bicarismo asimmetrico ha le funzioni del vi lascio anche su questo io qua uso il rubo 5 secondi questo è la verità quindi è vero che diminuisce il numero dei senatori i costi però visto che ci saranno dopo diminuiscono di quanto il senato oggi costa circa 500 milioni la ragioneria dello stato ha detto che con questa manovra con questa riforma si risparmierano 50 milioni 47 49 adesso è un milione più un milione meno perché chiaramente i dipendenti rimangono tutti i vitalizi che il senato paga agli ex senatori rimangono tutti le pensioni che pagano i dipendenti del senato rimangono tutte e soprattutto se Buffagni domani sarà consigliere regionale contemporaneamente senatore non penserete che io andrò a Roma a spese mie mi pagherete il trasporto mi pagherete mi darete rimborsi per la casa giù a Roma perché ovviamente è lavoro e quindi è vero viene tagliata questa partendenità l'unica cosa che mi fa sorridere è il famoso discorso che con questa riforma il Presidente della Repubblica praticamente da solo vale il 5% cioè è un partitino da 5% è un Alfano un fratello d'Italia insomma anzi no fratello d'Italia neanche tanto quindi il Presidente della Repubblica da solo esprime un 5% che voi capite che non è proprio una cosa da poco dato che c'è gente che col coltello tra i denti prova a raggiungere la soglia minima per entrare quindi è un paradosso poi il resto diciamo non sono neanche valutazioni soggettive o personali ma è un dato di fatto quindi non mi sento neanche di commentare ulteriormente la slide dopo non me la ricordo quindi scusami ah sì beh qua rimaniamo è come prima direi sì io questo non ci trovo niente di diverso rispetto a quello che abbiamo anticipato prima cioè la fiducia comunque sì viene limitato il caso in cui viene utilizzata ma io sono certo che verrà utilizzata spesso in ogni caso poi in questo tipo di legislatura come quella di oggi un domani avendo il Presidente del Consiglio se anche per ipotizziamo segretario del partito avrà una forza tale che può comandare i deputati di cui praticamente pochissimi saranno eletti dai cittadini perché tanti saranno i capilisti bloccati e avrà in mano un potere mostruoso però ripeto queste sono valutazioni che non non mi sembra neanche necessario dibattere più di tanto perfetto sei due minuto e un quarto bisogna decidere se discutiamo della cosa o ne facciamo le caricature come sulle leggi sulle direttive che verrebbero votate dal Senato non è vero è evidente che se il Senato votasse le direttive come tu dicevi prima che vengono adottate allora era meglio non discutere il Senato voterà solo le leggi sulle modalità di recepimento che se ne fa una ogni vent'anni quindi e si occuperà della valutazione si occuperà delle valutazioni delle politiche europee che sono cose diverse quindi sulle direttive il Senato non parla niente sono leggi ordinarie che verranno votate solo dalla Camera idem sui senatori e il Presidente della Repubblica allora diciamo che il Presidente della Repubblica varrà come Alfano così sembra una figata e ovviamente non è così oggi i Presidenti della Repubblica nominano i senatori a vita si è deciso giusto sbagliato ma non che il Presidente della Repubblica vale un partitino del 5% se no stiamo a prenderti in giro i Presidenti della Repubblica nomineranno per 7 anni nomineranno 5 senatori che stanno in carica 7 anni quindi ci saranno Presidenti della Repubblica che non eleggono 7 anni che non eleggono manco non nominano scusate manco un senatore per 5 anni ce ne sarà uno che ne nomina per 7 anni scusate ce ne sarà uno che ne nomina due a secondo che quando lui arriva ci sia spazio a rotazione quindi non è che c'è il partito del singolo Presidente della Repubblica si poteva abolire si poteva abolire siccome ci sono le storie e le tradizioni e il Senato aveva questa tradizione storica italiana dei senatori a vita si è deciso non è che l'ho deciso io si è deciso con una maggioranza si è deciso di manteniamo la prerogativa dei presidenti della Repubblica di nominare dei membri del Senato riduciamo il tempo non saranno più senatori a vita e consentiamo comunque ai presidenti della Repubblica per dare un'articolazione più ampia in termini di rappresentanza al Senato che tanto non deve più dare togliere la fiducia al Governo perché se desse togliere la fiducia al Governo come oggi magari il senatore a vita nominato dal presidente della Repubblica può decidere le sorti del Governo era così prima perché poi spesso magari le maggioranze del Senato erano risicate oggi invece non sarà più così si fa un Senato che rappresenta anche i nominati dai vari presidenti della Repubblica perché si è deciso comunque di conservare questa articolazione istituzionale si poteva fare tabula rasa togliere tutto era meglio io penso che invece sia meglio mantenere un'articolazione riducendo il ruolo del Senato come è stato fatto in modo chiaro ripeto le leggi in questa legislatura con la nuova Costituzione il nuovo Senato si sarebbe occupato grosso modo del 3% delle leggi cioè di alcune cose importanti sul resto no quindi ovviamente lo ripeto la questione della fiducia al governo o no è un elemento importante per cui se tu vuoi che una Camera non dia la fiducia al governo è meglio anzi alcuni costituzionalisti dicono non può essere una Camera eletta a suffragi universali allo stesso modo dell'altra quindi le cose si tengono poi si può decidere che era meglio tenere nulla a muovere va tutto male dobbiamo essere preoccupati terrorizzati di qualsiasi cambiamento però questo cambiamento ha una sua linearità dopodiché decideranno o deciderete decideremo mercoledì mercoledì il 4 dicembre domenica se confermarla o no io mi auguro che la decisione sia espressa sulla nuova costituzione e non in generale sul governo eccetera perché per quello basta aspettare qualche mese ci saranno le elezioni politiche perfetto grazie allora non sono un giornalista io sono qui un moderatore il governo ma c'è qualche domanda dal pubblico? riprendiamo quindi su questo il governo dal sì che cos'è questo? ah sì no perché una delle critiche ah questo adesso Renzi si vuole fare la sua costituzione qualcuno dice il dittatore che è sempre meglio che scrofa ferita ma insomma qualcuno dice il dittatore qualcuno dice che vuole fare no parla uno che pensava e continua a pensare che sarebbe stato meglio dare un po' più di poteri al governo e soprattutto al presidente del consiglio come fece la riforma Berlusconi Calderoli del 2006 che purtroppo venne bocciata io ero a favore anche di quella riforma che era un po' diversa da questa seguiva un modello diverso ma affrontava gli stessi nodi cruciali in termini di maggiore efficienza riduceva il numero dei parlamentari differenziava il ruolo tra le due camere in modo diverso da quello che fa questa nuova costituzione ma quella riforma costituzionale per esempio dava più poteri il presidente del consiglio italiano è grosso modo l'unico capo di governo che per cambiare un ministro con cui è entrato in conflitto deve dimettersi lui io pensavo e continuo a pensare che sarebbe meglio dare un po' più di poteri al presidente del consiglio in Italia come ce li hanno per costituzione o per tradizione il primo ministro inglese o la cancelliera tedesca o anche il primo ministro spagnolo però non cambia nulla poteri del governo identici sulla legge elettorale però voglio dire una cosa che al di là degli impegni politici di cui uno può diffidare se diffida di tutto diffida anche dell'impegno politico che il principale partito di maggioranza cioè il PD ha preso di cambiare la legge elettorale ma in questa costituzione nelle norme transitorie c'è scritto che entro 15 giorni non mi ricordo quanti giorni ma c'è un periodo breve ma sufficiente dopo la pubblicazione in gazzetta ufficiale della nuova costituzione il 25% dei deputati e non so se il 30% dei senatori può sottoscrivere una richiesta per mandare alla corte costituzionale anche la legge vigente perché siccome nella nuova costituzione c'è scritto che d'ora in poi se si cambia la legge elettorale bisognerà prima che questa legge elettorale entri in vigore chiedere il giudizio la consulta noi giustamente abbiamo detto non è che questo poi vale solo per il futuro siccome l'italicum non è ancora stato usato allora facciamo che anche l'italicum votato sì al referendum con la nuova costituzione prima di essere usato dovrà essere giudicato dalla consulta quindi se è quella schifezza che tutti dicono la consulta dirà no dovete prima di usarla dovete cambiarla così e così quindi il combinato disposto il fatto che il potere del presidente del consiglio non cambiano di una virgola ripeto e lo dice uno che avrebbe preferito più poteri per il presidente non per Renzi per il presidente del consiglio dei prossimi decenni che sarebbe stato utile i poteri del presidente del consiglio non cambiano il combinato disposto costituzione legge elettorale non esiste sulla carta perché la stessa legge elettorale la stessa riforma costituzionale prevede che prima di poter usare l'italicum anche se vincersi debba pronunciarsi la corte costituzione perfetto io vi leggo un altro articolo della costituzione visto che su proposta del governo la legge dello stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richiede la tutela dell'unità giuridica e economica della repubblica ovvero la tutela dell'interesse nazionale quindi significa che il governo se è una legge di una regione non gli piace per interessi nazionali ha la clausola di supremazia cioè è più forte delle regioni quindi anche se le regioni decidono di fare una determinata scelta il governo gli dice no così non va bene decidiamo noi quindi io dissento dal fatto che il governo non gli sia dati più poteri poi che non vengano dati poteri come quello della devolution di Berlusconi è un altro paio di maniche però il potere lo ha poi l'altra cosa decreto prima si è fatto un numero di leggi approvate si faceva il rapporto tra il numero di leggi approvate e quelle che sarebbero state approvate coinvolgendo il Senato ma quante di queste leggi sono state approvate con la fiducia perché paradossalmente io o meglio la domanda sarebbe più interessante quante leggi di iniziativa del Parlamento del Senato della Camera sono state approvate ad oggi in questi tre anni senza andare nel passato guardiamo solo in questi anni e probabilmente le statistiche cambiano un po' radicalmente le percentuali al contempo il 5% del partito del Presidente della Repubblica io lo ribadisco forse ho sbagliato con Alfano perché Alfano magari ha meno del 5 quindi chiedo scusa però col Senato diciamo che nuovo che ci troveremo in Italia dopo l'eventuale approvazione che io mi auguro non succeda della riforma costituzionale ci troveremo ipotesi andiamo a votare nel 2018 con l'Italicum poi parliamo anche della riforma i 5 Stelle prendono il 90% un incubo per qualcuno legittimamente e dicono noi vogliamo inserire il vincolo di mandato che è un impegno che noi vogliamo vinciamo col 90% ok ci troveremo al Senato 7 forse anche 8 senatori 5 Stelle su 100 8 abbiamo preso il 90% dei voti dei cittadini è proprio un'esasperazione ma per farvi capire noi non potremo inserire il vincolo di mandato perché il bicameralismo paritario che viene superato ci bloccherà il rispetto del mandato elettorale questo cosa significa significa che a quel punto il potere il volere dei cittadini viene messo in discussione faccio un esempio con la legge elettorale attuale perché si è vero viene prevista la possibilità di chiedere la consulta al parere preventivo della legge elettorale ipotizziamo facciamo un percorso storico questa legge elettorale attuale è stata votata dopo è stata ideata dopo un successo clamoroso alle elezioni europee da parte dell'attuale presidente del consiglio che fece un risultato straordinario il 40% più del 40% e casualmente l'Italicum garantisce una maggioranza a chi vince con più del 40% quando al di là che anche la legge elettorale che è materia del senato e della camera è stata decisa dal governo quindi l'esecutivo che si sovrappone al legislativo è stata votata con la fiducia un'altra volta soltanto nella storia d'Italia mi correggerà il senatore è stata votata con fiducia una legge elettorale si chiamava legge acerbo e l'ha voluta Mussolini quindi insomma poi potremmo fare i richiami che c'erano i capilisti bloccati che c'erano un premio di maggioranza abnorme parallelismi che insomma un po' fa un paura però va bene allora chi è in malafede cosa può pensare ma passa la riforma l'Italicum lo dobbiamo cambiare perché sennò vincono i 5 stelle è un'ipotesi e io sto ragionando così per assurdo arriverà la corte costituzionale che ci dirà che è sbagliato che non si può fare perché c'è il problema che ci sono ancora i capilisti bloccati che c'è un premio di maggioranza abnorme anche se c'è il ballottaggio quindi verrà rimessa in discussione proprio perché la legge elettorale non viene fatta dal Parlamento affinché venga rappresentato il volere popolare ma viene fatta in base agli interessi come abbiamo già visto in passato che aveva fatto Berlusconi in base a chi sta governando in quel momento si cerca di fare una legge elettorale a proprio uso questa è una cosa che ci preoccupa perché tutti noi dobbiamo volere una costituzione che permetta di avere pesi e contrappesi se al governo va al nostro peggior incubo noi dobbiamo ipotizzare che al governare ci vada la persona che ci fa più paura che sia Grillo che sia Di Maio che sia Renzi che sia Salvini chiunque ma noi dobbiamo immaginare e sognare una costituzione che abbia questo tipo di approccio che il governo possa essere controllato in un sistema di pesi e contrappesi perché altrimenti la deriva autoritaria che si può raggiungere nel caso in cui i 5 stelle impazziscono e diventano vincono il 90% e diventano degli autoritari se un sistema e la nostra costituzione non garantisce un equilibrio noi lasciamo in mano il nostro paese a quei pazzi dei 5 stelle che potrebbero fare dei disastri più gravi di qualsiasi altro pazzo della storia del mondiale allora noi dobbiamo ragionare proprio in quell'ottica lo dico perché almeno faccio un esempio che nessuno può dire che sto augurando il peggio perché sono in conflitto di interesse anche su questo però voi capite che è un passaggio determinante quindi io vorrei che questo fosse un pensiero di ciascuno di noi perché come in qualsiasi sistema e poi dopo quando parleremo del titolo quinto dei costi e regioni vi farò l'esempio di quando un sistema che ha pesi e contrappesi ovvero uno che fa e uno che controlla le cose funzionano meno peggio non dico funzionano meglio ma funzionano meno peggio questa è quella introduttiva potenza legislativa tra state e regioni allora questo forse è il vero cuore di questa riforma secondo me cioè c'è oggi con questa riforma la volontà di centralizzare maggiormente il potere su Roma e sul Parlamento che è una scelta di visione politica del paese che è legittima io non la condivido però credo che sia legittima c'è stato detto che le regioni rubano io mi sono candidato contro questo quindi figuratevi c'è stato detto che i consiglieri regionali sono la classe politica peggiore perché li hanno indagati una marea e io dico ma vi immaginate perché sono stati indagati e perché è venuto fuori il problema dei consiglieri regionali dei problemi delle regioni perché la Corte dei Conti in un bel momento ha iniziato a fare dei controlli tant'è che oggi tutti in regione qualsiasi gruppo politico ha paura a utilizzare le risorse che ci vengono date per l'utilizzo dei gruppi perché tutti sapendo che c'è un controllo vero e c'è una punizione hanno paura quindi il peso e il contrapeso di cui vi parlavo prima ma al contempo mi farebbe sorridere mi immagino una sfida se ci fossero i controlli della Corte dei Conti anche al Senato e alla Camera pensate cosa potrebbe venire fuori al Camera e Senato non ci sono i controlli della Corte dei Conti perché c'è l'auto di chi l'auto di chi c'è la possibilità della Camera e il Senato di autocontrollarsi ma voi immaginate che sfida epica tra un Trota e un Gasparri un Verdini e un Aminetti insomma pensate che sfida tra spese che potremmo avere allora il ragionamento qual è fatto salvo questo noi in che paese vogliamo vivere in un paese in cui il potere le decisioni si abbassano verso i cittadini è un potere nel quale da Roma decidono cosa deve succedere in Valtellina noi questa è una delle poche aree di confine con delle peculiarità particolari che non ha autonomia speciale tant'è che noi in Regione Lombardia è l'unica provincia a cui abbiamo la provincia che esiste ancora anche se c'è stato detto che vengono abolite ha avuto maggiori risorse rispetto alle altre province che si sono ovviamente lamentate perché qui avete delle caratteristiche morfologiche differenti c'è un distacco infrastrutturale importante non facile da colmare e quindi avete delle necessità diverse dagli altri ma difficilmente queste peculiarità si possono capire da chi è a Roma poi ve le possono dire che le capiscono ovviamente ma questa è la teoria siamo sempre bravissimi e le province che vengono abolite che invece come vi ho detto prima continuano ad esistere scopriamo che esistono ancora quando quando nella Lombardia non nella Sicilia nella campagna perché noi viviamo con questi miti in Lombardia cade un ponte sulla Valassina muore una persona poteva essere chiunque di noi io mentre venivo su oggi ci pensavo ogni ponte guardavo e ci speriamo non succeda nulla ecco lì ci siamo accorti che esistono ancora le province ma la verità è che le province ci sono ci saranno si litigherà per come riorganizzarle i dipendenti e sono tutti lì come ci ha insegnato Checco Zallone col suo ultimo film straordinario che non l'ho visto lo vada a vedere simpaticissimo ma molto reale quello che manca oggi sono i servizi che noi riceviamo quindi hanno abolito le province tutto centralizzato adesso le regioni i comuni le ripartiranno poi alla fine il federalismo lo si fa con due cose con le materie concorrenti che oggi lo Stato ci toglierà con l'approvazione della riforma quindi viene centralizzato tutto e questa è una scelta che io non condivido e con il fisco i soldi siccome le regioni non hanno autonomia fiscale perché i soldi arrivano semplicemente di trasferimento da Roma tranne quelli del bollo auto e chiaramente quei quattro soldi dei ticket sanitari se non ti danno i soldi tu non vai da nessuna parte e ci hanno detto ah ma viene fatto questo perché c'è molta concorrenza c'è molta diciamo litigiosità tra Stato e regioni c'è un'altissima conflittualità davanti alla Corte Costituzionale io non entro in merito a queste cose noiose vi faccio degli esempi dove si trovano d'accordo Stato e regioni erano d'accordissimo a spendere i miliardi per fare la Brebemi e la Pedemontana tutti d'accordo tutti d'accordo dovevano pagarli i privati era un'operazione straordinaria tutti in linea senza bisogno di discutere delle competenze oggi l'abbiamo pagata noi perché doveva essere una cosa straordinaria ecco il rischio questo è per farvi vedere il rischio che quando tu hai un'idea sbagliata non c'entra una questione di competenza territoriale centrale ma è una questione idiota ma al contempo faccio un altro esempio se domani mattina il Senato e la Camera dovranno discutere di dove fare il centro di stoccaggio nazionale dei rifiuti radioattivi è una discussione che al Ministro dell'Ambiente c'è a un certo punto decideranno di farla in Valtellina voi avete votato il Sindaco avete votato i consiglieri regionali alla Camera mettete una X su un simbolo che c'è il capolista bloccato e quindi non l'avete manco votato bene il vostro Sindaco non potrà far nulla il vostro consiglieri regionale nemmeno perché è deciso tutto da Roma parliamone io posso non essere d'accordo io non voglio che si decida sul territorio e basta io voglio che ci sia un confronto e che le decisioni vengano prese con un confronto tra tutti gli enti territoriali coinvolti ma non che dall'alto arrivino e mi dicono questa è la cosa giusta da fare perché altrimenti la situazione non è delle migliori al contempo qui in Valtellina scusa se sono andato lungo avremo un rischio su tutta la gestione dell'energia dell'idroelettrico e su tutta la gestione degli incassi e dei soldi di come vengono ripartiti perché l'energia e tutta la legislazione andrà a livello nazionale domani mattina non cambia nulla quindi tranquilli ma è attendere il problema e siccome grazie a voi illuminiamo praticamente la città di Milano magari una pensata io ce la farei grazie scusa però bisogna essere chiari perché se no a parte che tra il dire e il fare adesso sono tutti capaci a dire bisogna 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 io passo la maggior parte del mio tempo a Roma è cambiato il sindaco 7-8 mesi fa è arrivato non è che voglio mettermi a fare polemica sulla raggi però poi quando ti trovi a dover governare passano i mesi non cambia nulla è sempre colpa di quelli precedenti nomini i tuoi amici o gli amici degli amici quindi insomma stiamo alle cose perché altrimenti la buttiamo in cacciara sono capace anch'io di farla ma sono poco interessato la clausola di salvaguardia per capirci era prevista dal nazionale era prevista dalla riforma costituzionale di Calderoli che non è un potente accentratore ma era una clausola di ragionevolezza e poi se certo se passiamo solo il tempo a pensare che c'è qualcuno che vuole fregarci allora manco da soli stiamo quindi la clausola di salvaguardia è un elemento di bilanciamento sacrosanto che non c'era che era stato già messo nella devolution di Calderoli e che è stato rimesso rimesso anche qua per quanto riguarda voglio tornare una cosa sull'autoritarismo però perché poi possiamo discuterne ad esempio per me un elemento autoritario è il vincolo di mandato che è nella proposta dei 5 stelle che non c'è nei parlamenti delle grandi liberal democrazie è quello che voleva Berlusconi che a un certo punto diceva sapete che c'è io ne mando lì uno il capogruppo che decide lui io gli telefono la mattina e lui decide e i parlamentari zitti e mosca se sono d'accordo bene se no se ne vanno a casa io che non a me non piace l'Italicum non mi piacciono le preferenze peggio che mai sono per i collegi rappresentanti del proprio territorio eccetera eccetera però l'idea che gli eletti non io che me frega ormai gli eletti in generale italiani diventino dei dipendenti magari di una società per azioni come Fininvest non parlo di altre cioè prendano gli ordini stiano lì e facciano solo quello che gli viene detto che è il vincolo di mandato tu sei lì e rispondi al tuo partito al tuo capo io penso per esempio che questo è una cosa che alle personalità autoritarie ai dittatori piace moltissimo e lo esercitano così ma insomma è una discussione che possiamo fare sulle regioni e sulla provincia di Sondrio sulle regioni ecco io vorrei per esempio che non Roma ma la regione Lombardia facesse finalmente una modifica alla legge elettorale regionale per stabilire che la provincia di Sondrio elega almeno un rappresentante e non per caso ma per nuova legge elettorale per il senato no no per il consiglio regionale legge no dov'è dov'è consigliere regionale valtellinese eletto alle ultime elezioni no non c'è nella legge elettorale la previsione che ci sia un consigliere regionale eletto in provincia di Sondrio tant'è che uno degli 80 per fortuna che tu si presenta la lista con un solo candidato il nostro tra l'altro era qua prima ogni lista che si presenta ha una candidata ne puoi eleggere uno su Sondrio ne puoi eleggere o ne deve eleggere ne deve eleggere io parlo di ogni forza politica ne può chiaramente quella che prende più voti qua è legge uno qui è stato eletto per la Lega Nord Ugo Parolo credo sia la seconda volta sei sicuro di questo quindi è già stata fatta la modifica della legge elettorale bene una cosa fatta anche dalla regione Lombardia il senato non c'entra io parlo della legge elettorale della regione Lombardia c'era la richiesta che venisse modificata tu mi dici che non lascia perdere Ugo però se mi dici ce n'era uno anche prima ma nella legge elettorale che conoscevo io non c'era la previsione che di sicuro ci fosse un membro se c'è meglio adesso mi informo bene ma sicuramente hai ragione tu dicevo questo per dire che è evidente che in un sistema federalista o regionalista la rappresentanza nella Camera Federale va a vantaggio dei più piccoli ma il senato americano è fatto così tutti gli stati hanno almeno un senatore anche se c'hanno 100.000 persone e la California che è uno stato che ha 45-50 milioni di persone è sotto rappresentato questo è un meccanismo che c'è ovunque vi sia un Parlamento a base federale o regionale fortunate le regioni che hanno lo status di regione sono più piccole io so che c'è in Valtellina una richiesta di avere lo status di regione a statuto speciale come il Trentino come l'Alto Addice o il Trentino o la Val d'Aosta c'è qualcuno che pensa che sia realizzabile questo? io non lo penso non perché non lo voglia ma perché conosco la storia so perché il Tirolo è regione a statuto speciale e quindi il Trentino per annacquare un po' lo statuto speciale del Tirolo è stata messa come provincia statuto speciale per fare una regione il Trentino Alto Addice un po' svuotata di poteri perché in Val d'Aosta parlano francese hanno una storia particolare eccetera eccetera quindi è evidente che non era possibile pensare di ottenere da un Parlamento nazionale oggi non dopo una guerra non per un territorio per un territorio che non ha una lingua specifica eccetera eccetera lo statuto speciale poi lo so che c'è gente che dice no dovevate sì ok io mi occupo di quello possibile quello possibile è che la del Rio prevede la legge del Rio prevede che negli enti di Aravasta nelle province nuove è possibile a tre province trasferire poteri particolari Sondrio Belluno e Verbanio Cuso Ossola e che la nuova Costituzione tutela quel principio nelle norme transitorie dicendo che l'organizzazione dovrà tener della distribuzione di poteri dovrà tener conto delle aree montane perché c'è quel tener conto delle aree montane perché quando la provincia di Lecco dovesse far ricorso alla Corte Costituzionale dicendo guarda che la regione Lombardia dà più poteri e risorse a Sondrio come succede e non le dà a me che sono più grossa la Corte Costituzionale dire no si sono mossi secondo la Costituzione quindi dal mio punto di vista per la provincia di Sondrio quello che si è ottenuto è importante e positivo poi se uno mi dice che bisognava ottenere la Luna cioè lo statuto speciale per la provincia di Sondrio io gli dico illuditi quello che dico è che anche la Lega quando ha disegnato la nuova Costituzione non ha previsto lo statuto speciale per la provincia di Sondrio semplicemente perché non è possibile perfetto ti ridò andiamo al prossimo ti ridò la parola federalismo fiscale hai due minuti facciamo la domanda però sono sì guardiamo quanti argomenti ancora quanti slide federalismo fiscale no di questo argomento hai due minuti e mezzo in meno comunque perché hai sforato no devi riprendere tu e poi passiamo sul federalismo fiscale e quello dopo che è decostituzionalizzazione delle province quello dopo no riprendo allora la cosa che mi interessa di più che è il punto sulle province perché ci tengo perché siamo stati criticati è stata criticata sia la legge del Rio che la nuova Costituzione mentre ripeto se noi le guardiamo nel loro insieme sia la legge del Rio che la nuova Costituzione rappresentano un riconoscimento della specificità sui canoni per capirci non cambia assolutamente nulla continueremo a vedercelo con la regione Lombardia la parte della Costituzione che interviene sull'energia non riguarda quello ma riguarda la programmazione energetica le grandi infrastrutture energetiche che a mio avviso è bene che restino è bene che restino appannaggio di una decisione statale e non di una decisione regionale perché se avessimo due regioni dice ne devo mettere d'accordo due siccome ne hai tante ad esempio io mi sto occupando di una cosa che a tanti non piace a me piace abbastanza cioè dell'idea di avere una ulteriore fornitura di gas metano per l'Italia per le industrie per le case è evidente che puoi tenere conto di tutto devi tenere conto degli interessi locali ci sono le procedure le conferenze dei servizi eccetera eccetera però poi alla fine in una grande infrastruttura internazionale deve esserci qualcuno che decide per il meglio ma deve esserci qualcuno che decide è evidente che poi non troverai mai la regione che ti dice fallo da me bisogna prevedere le compensazioni bisogna fare le cose per bene come la fanno in tutti i paesi ma bisogna arrivare a prendere una decisione quindi la parte di energie e trasporti che ritorna come era già previsto anche dalle altre riforme che ritorna più saldamente nelle mani del governo e del Parlamento centrale è quella parte lì non è la parte di dettaglio sul federalismo fiscale questa costituzione non è una costituzione che prevede il federalismo fiscale come c'è ad esempio negli Stati Uniti d'America dove ci sono pochi tributi nazionali e poi ognuno fa per sé decide le proprie aliquote eccetera si poteva fare si potrà sicuramente fare in futuro non è che non era obbligatorio farlo adesso probabilmente non era neanche il momento migliore da tanti punti di vista però quello è un tema che resta impregiudicato cioè nessuno vieta di pensare possibile e poi organizzare un sistema di federalismo fiscale proprio non è un tema della riforma costituzionale perfetto grazie allora federalismo fiscale assolutamente confermo quello che vi ho detto prima quindi tutti gli enti territoriali ricevono in via indiretta dallo Stato il problema si porrà soprattutto per i comuni che già hanno subito grazie al sindaco d'Italia tagli importanti e continueranno a averli perché alla fine poi i servizi quelli principali che verranno tagliati vedete le province oggi noi abbiamo le strade provinciali che sono piene di buche le scuole che fanno capo alla provincia già tanto si riescono a pagare il riscaldamento e la manutenzione non esiste il servizio per i disabili è stato tagliato perché per esempio i trasporti li gestiscono loro però i dipendenti sono tutti là questa è stata la grande riforma che che se ne dica poi si può discutere quanto si vuole ma al momento oggi siccome tutti nel programma quasi tutti tranne la Lega avevano nel programma l'abolizione delle province è stato affrontato con fretta e senza fare un piano organico di riorganizzazione della macchina e quindi oggi questo è il conto che paghiamo poi si potrebbe discutere per esempio sia sul numero delle regioni visto che bisognava riformare la Costituzione ebbene perché non si è toccato il tema di diminuire il numero delle regioni per accentrare i costi cioè per diminuire i costi ed efficientarli ha senso che esista una regione con 500.000 abitanti e due province secondo me no però erano temi che elettoralmente erano scomodi come tanto esempio non è stato toccato neanche il tema della regione statuto speciale che guai chi le tocca detto questo province ne abbiamo parlato vincolo di mandato per noi è determinante il vincolo di mandato non è relativo al capo politico va se inserito discusso e disegnato per noi il vincolo di mandato è sul programma perché se Buffagni si candida dicendo che si taglia lo stipendio piuttosto che dice che si dimette se viene condannato in primo grado piuttosto che dice che vuole tagliare le province non è che poi quando entra in istituzione dice no grillo è brutto è cattivo me ne sono accorto solo una volta eletto vado da un'altra parte io capisco il senatore lei ha cambiato più schieramenti anche solo durante questa legislatura quindi io capisco che lei abbia una visione diversa non la condivido ma la rispetto però lei capisce che in una visione politica in cui bisogna dare governabilità a un paese che è tanto decantato se io prendo un impegno con i cittadini io devo rispettarlo perché se ti sei candidato con un partito e poi non ti trovi più con quelle idee è legittimo ti dimetti te ne torni a casa e al prossimo giro ti fai rileggere è troppo comodo farsi eleggere raccontando una favola o prendendo degli impegni e poi quando entri in istituzione ti vendi al miglior offerente oppure decidi di andare visto che sei rotta col tuo capo di andare da un'altra parte perché se NCD e fratelli come PDL Forza Italia pardon sono rimasti più o meno nella stessa area noi abbiamo oggi un governo che si regge su due persone che si erano candidate una contro l'altra stiamo prendendo in giro i cittadini oggi il terzo gruppo politico più importante alla Camera dei deputati della Repubblica Italiana il terzo gruppo è quello del misto il gruppo misto di cui lei fa parte al Senato ma io sto parlando della Camera perché non so al Senato che gruppo è ma forse è determinante anche al Senato non è stato votato da nessuno sulla scheda elettorale non c'era quindi io quello che ritengo necessario come movimento politico è quello che se tu prendi un impegno dei cittadini devi rispettarlo altrimenti è chiaro che la politica perde di credibilità poi possiamo fare i migliori discorsi possibili immaginabili ma c'è sempre un motivo per tutelarsi il proprio sedere però se io ho preso un impegno con i cittadini io lo rispetto facciamo come lo fanno in Inghilterra perché in Inghilterra non lo fanno è normale se vengono eletti con un partito se ne vanno a caldo è così è così o può piacere o no ti dimetti e te ne vai a casa è andato in Inghilterra si mettono il vincolo di mandato in Inghilterra lei con chi è stato eletto aspetta lei con chi è stato eletto con Monti io non ho cambiato allora deve essere che ha sbagliato si no aspetta deve aver sbagliato la Camera dei Deputati il Senato è Repubblica che dice che lei è passato gruppo scelta civica per l'Italia dal 19 marzo 2013 al 9 dicembre 2013 no scusi scusi no dal 10 dicembre dal 10 dicembre 2013 al 25 febbraio 2015 lei è scelta civica per Monti per l'Italia dal 26 febbraio 2015 lei è nel gruppo misto il gruppo si è sciolto e tu finisci nel misto automaticamente quindi ho detto non ha fatto nessuna scelta no non ha fatto la vittima e allora cattivissimo Monti cioè prendiamocela con lui che non è riuscito a tenere insieme se avesse avuto il vincolo di mandato il gruppo non si sarebbe sciolto perché nessuno se ne sarebbe andato perché altrimenti se ne sarebbe tornato a casa questa è la verità può piacere o non piacere però secondo noi per ridare credibilità alla politica è necessario e fondamentale che la politica rispetti gli impegni che ha preso perché altrimenti come mi diceva giustamente lei si può parlare di qualsiasi cosa e secondo noi questo è un passaggio decisivo per dare governabilità altro che la riforma costituzionale noi oggi abbiamo una riforma costituzionale approvata e che andrà al referendum perché Verdini che si è candidato con Berlusconi al Senato ha approvato e votato appoggiato lo chiami come vuole questa riforma allora io credo che noi non possiamo mettere in mano di persone irresponsabili la gestione del nostro paese indipendentemente dalla Costituzione che fino ad oggi bene o male ha funzionato sono dentro sono fuori sono fuori se mi leggi la domanda le recupero subito andiamo alla prossima magari facciamo un paio giornalismo differenziale vabbè io lo salterei molto noioso pubblica amministrazione so io queste robe qui sono veramente e poi ditemi voi io non so vorrei sulla democrazia diretta se volete rapidamente chiamo la democrazia diretta su questo tema sono state fatte delle modifiche costituzionali che io in dissenso dal mio movimento e non sono stato espulso credibile attenzione ho detto che secondo me si potevano approfondire e discutere si poteva fare un lavoro migliore ma c'era un'apertura ovviamente mi è stato detto no non capisci io invece vengo qua e vi dico quello che penso io cioè sono state fatte delle aperture importanti non condivido per esempio l'innalzamento del numero ok però almeno è un passo un tentativo di passo avanti io non voterei sì a questo passaggio nella riforma costituzionale se fosse solo solo questo ok ti interrompo quale numero gli 800.000 i 150.000 per la legge iniziativa popolare per esempio il referendum però per correttezza devo dire che rimane il 500.000 e in più c'è l'800.000 che prevede quel cambiamento assolutamente assolutamente come numero che aumenta è solo quello dal 50.000 a 150.000 no aumenta anche da 800.000 perché poi a quel punto vale l'elezione più uno della volta precedente però al di là di questo rimane anche il caso dei 500.000 rimane lo stesso per l'amor di dio infatti io mica sto dicendo che ero negativo per esempio iniziative legge iniziativa popolare noi come 5 Stelle prima che il movimento nascesse ne abbiamo raccolto più di 50.000 firme per chiedere un parlamento pulito cioè una cosa semplice se sei un condannato magari non vai a rappresentarmi io capisco che abbiamo tanti condannati che vogliono avere una rappresentanza in parlamento ma magari evitiamo di metterceli no questa è una valutazione politica abbiamo presentato questa proposta di legge iniziativa popolare è rimasta nelle cantine del Senato è rimasta lì non è mai andata in discussione oggi mi dicono le aumentiamo a 150.000 che vuol dire tre volte non è una cosa proprio da poco e mi dicono però i regolamenti parlamentari assicurano la discussione e la deliberazione conclusiva cosa vuol dire che rimandiamo rispetto alla Costituzione le regole con le quali in futuro si deciderà come discuterne mi sembra uno spreco perché banalmente noi succede già in Regione Lombardia noi quando arriva una legge di iniziativa popolare abbiamo un X numero di tempi tre mesi non abbiamo la Costituzione abbiamo un regolamento pubblico per discutere poi cosa succede che il più delle volte le leggi di iniziativa popolare che arrivano non possono essere approvate tale e quali perché basta un esempio stupido se la norma finanziaria non è perfetta è attualizzata a quel momento non si può approvare quindi è solo un impegno politico che tu entro quei tre mesi puoi decidere o di approvare quella legge che è impossibile perché è una norma finanziaria approvata o di bocciarla oppure se è una cosa che politicamente si condivide fai un testo alternativo sulla falsa riga lo adegui in base alle norme anche con l'aiuto degli uffici legislativi gli dai una norma finanziaria e lo approvi come abbiamo fatto per esempio sul commercio ecosolidale è stata una legge di iniziativa popolare regionale visto che il commercio è regionale ed è stata approvata quello che mi fa specie è che quando c'è un'occasione di questo genere per aprire un dibattito su questo tema non lo si affronta in maniera seria lo si affronta iniziamo a fare qualcosa però poi rimandiamo ai regolamenti parlamentari è scorretto è poco serio io posso avere la fiducia possibile nei parlamentari della Repubblica ma perché non lo metti in Costituzione come hai detto che gli dai al governo il voto adatta certa entro 70 giorni perché non l'abbiamo fatto anche qua e quello che ho lamentato con i miei amici che abbiamo alla Camera e Senato è stata che non abbiamo fatto delle proposte o non abbiamo trovato una mediazione positiva per trovare un'attuazione reale di questo passaggio e ripeto io questa cosa la dico qua l'ho detta all'interno del mio movimento nessuno mi ha espulso anche se da noi il vincolo di mandato lo facciamo valere lo stesso perché quando qualcuno non va bene l'abbiamo espulso perché forse non c'era un clima giusto così io do una giustificazione ai miei però ripeto non lo voterei però è un buon inizio questa è l'unica cosa che io vedo come una discussione plausibile all'interno della riforma costituzionale grazie mille ribadisco questo ci tengo a ribadirlo perché non era chiaro neanche a me ovvero che il referendum abrogativo quello che esiste adesso dei 500.000 rimane e in più è previsto quello che diventa di 800.000 e in quel caso se di 800.000 il quorum si abbassa al 50% più uno di quelli che hanno votato alle ultime elezioni della Camera però rimangono entrambi neanche io ho capito pensavo che ci fossero solo gli 800.000 invece no rimane anche l'altro io a parte stavo leggendo la legge elettorale regionale sicuramente hai ragione tu che è cambiata però non riesco a trovare il testo perché la legge elettorale regionale tu dici che garantisce un eletto in provincia di Sondrio quindi significa che sia stata modificata ma non trovo dove è stata modificata però il consigliere regionale se tu avrai sicuramente ragione spero che tu abbia sicuramente ragione è ripartita viene assicurata ad ogni provincia c'è scritto mi trovi il testo no no perché siccome non lo trovo siccome però sicuramente è stato fatto e invece ovviamente non è vero che in Gran Bretagna ci sia il vincolo di mandato perché io sentire un consigliere regionale che parla ho dissentito ma non mi hanno espulso mancherebbe altro che ti espellano perché dissenti no no ma questa è una questione seria è una questione seria perché è la scelta tra la democrazia di Erdogan e di Putin e la liberal democrazia uno può scegliere tranquillamente la democrazia di Erdogan e di Putin dove il vincolo di mandato c'è per legge o di fatto e premesso che come diceva un grande inglese Churchill ci sono politici che per amore del proprio partito cambiano idea ci sono politici e io concordo con Churchill che per amore delle proprie idee se necessario cambiano anche partito ci ho detto io sono nel gruppo misto perché il gruppo a cui appartenevo si è sciolto perché se ne sono andati e siamo rimasti sotto i dieci e quindi io sto con Monti nel gruppo misto io continuo a pensare che il vincolo di mandato sia uno strumento autoritario nelle mani dei capi partito ed essendo un liberale cresciuto con aspirazione alla libertà anche dei parlamentari penso che come nelle grandi democrazie da quando ci sono le grandi democrazie nelle grandi democrazie i parlamentari rispondono della loro coscienza e rispondono ai loro elettori non ai capi di partito o agli amministratori delegati delle società quindi da questo punto di vista io e poi in più io sono un condannato sono un condannato con sentenza definitiva uno dei pochi e lo rivendico perché durante una disobbedienza civile a favore della legalizzazione della cannabis avendo chiamato la polizia e la magistratura sono stato arrestato processato e condannato in via definitiva sapendolo perché penso che faccia parte delle persone libere testimoniare la contrarietà a una legge che in quel caso metteva in galera un sacco di ragazzi in quel periodo ma ci ho detto voglio tornare poi sugli avvisi poi io sono contento che il Movimento 5 Stelle per esempio abbia recuperato un po' di garantismo prima l'avviso di garanzia doveva essere uno stigma qualsiasi cosa adesso no no infatti per fortuna che non t'hanno espulso e sono contento che non ti abbiano espulso e abbiano rispettato la tua libertà di pensiero si è finalmente capito che insomma la costituzione deve valere e uno è e uno è come dire e uno è innocente fino a prova del contrario sulla democrazia diretta da referendario non pentito io ho raccolto centinaia di migliaia di firme nel centinaia di migliaia di firme per promuovere dei referendum io credo che si sia fatto uno straordinario passo avanti resta fermo tutto quello che c'era prima io avrei cambiato anche quello ma viene previsto che se tu raccogli 800.000 firme intendiamoci il limite delle 500.000 firme come delle 50.000 firme era stato fissato tra il 46 e il 48 quando gli italiani erano molto meno anche in numero assoluto quindi passare da 500.000 a 800.000 significa sostanzialmente aggiornare il dato rispetto alla popolazione ma si prevede che se tu raccogli 800.000 firme cioè fai uno sforzo in più a quel punto finalmente il referendum tornerà a essere un confronto tra sì e no perché il quorum non è sulla metà degli aventi diritto che creava una situazione in cui c'è nel nuovo statuto no no quello che ti dicevo al fine di rendere effettiva la rappresentanza i territori provinciali come stabilito l'articolo 12 del Stato di Regione al termine operazioni e competenze l'ufficio centrale ragionale verifica che in ogni circostazione vengono a lei perfetto quindi dal punto di vista del referendum e dei referendari si fa un passo avanti perché se tu arrivi a 800.000 firme sei sicuro che la competizione sarà tra sì e no oggi invece i contrari si sommano agli astenuti fisiologici cioè quel 25-30% che comunque non va a votare e quindi diventa una cosa improbata quindi uno dei punti qualificanti e positivi di questa Costituzione è sicuramente la riforma della democrazia diretta sia per quanto riguarda il referendum 800.000 firme e quorum mobile cioè la metà di quelli che hanno votato l'ultima volta sia nelle leggi di iniziativa popolare perché si passa da 50.000 a 150.000 ed è vero però il Parlamento sarà obbligato come succede ad esempio in Gran Bretagna a esprimersi che può anche dire semplicemente no però l'ha detto chi ha raccolto le firme sa in Parlamento chi avrà detto sì o no a quella legge di iniziativa popolare questo secondo me è un passo che era necessario lo dico perché nella mia militanza politica ho raccolto anche un sacco di firme per le leggi di iniziativa popolare oggi arrivano lì e non se le fila nessuno se vince il sì avremo referendum a quorum variabile quindi il ritorno vero del referendum abrogativo e avremo leggi di iniziativa popolare che si saprà che fine faranno e chi voterà a favore o contro nessuno ovviamente può pensare che se c'è una legge di iniziativa popolare per forza diventi legge ma credo che sia diritto di tutti i firmantari pretendere che ci sia una pronuncia del Parlamento tieni tieni perché ti faccio andare avanti sulle prossime ma qui non finiamo più però no sono quasi finite no era per lasciare un po' di spazio alle domande grazie costituzionale possiamo fare possiamo interrompere un attimo e chiedere se ci sono delle domande no però io direi se cominciamo con le domande poi andiamo andiamo con le domande se voglia qual era l'ultima cosa le altre le altre slide sono garanzie costituzionali il Presidente della Repubblica Corte Costituzionale facciamo il Presidente della Repubblica che è uno dei temi più discussi sono tre queste tre è quello che mi appassiona meno Presidente della Repubblica Corte Costituzionale e tagli diretti e il costo della politica sui tagli e il costo della politica dico come la penso ci sono dei tagli poi possiamo stare a discutere all'infinito la spesa pubblica ha un volume che è quello che si sta io non credo che si facciano le costituzioni per ridurre le costituzioni cioè la legge base di un paese che deve innanzitutto garantire la libertà prima cosa l'accesso a tutti gli strumenti di democrazia seconda cosa il buon funzionamento delle istituzioni terza cosa per risparmiare una frazione è evidente che a regime un senato che non è più di 315 eletti ma di 100 persone a regime cioè nel corso degli anni finirà a produrre delle riduzioni di costo significative il CLEM è un istituto che costa circa un miliardo che alla fine non ha prodotto i risultati che doveva produrre viene chiuso i palazzi naturalmente restano i dipendenti possiamo anche licenziarli non lo so ma insomma è difficile sono tutti dipendenti della pubblica amministrazione i risparmi sono a regime la cosa che mi interessa invece è la questione del Presidente della Repubblica perché voglio chiarire che il Presidente della Repubblica con la nuova Costituzione sarà ancora più sottratto di quanto succeda oggi alle volontà della maggioranza perché oggi alla fine il Presidente della Repubblica viene eletto a maggioranza semplice cioè il 50% più 1 nella nuova Costituzione è previsto che il Presidente della Repubblica che sarà votato da Camera e Senato dovrà essere eletto con una maggioranza di almeno 3 quinti quindi più del 50% quindi siamo sicuri che anche se rimanesse l'Italia con ciò le simulazioni anche se rimanesse l'Italia comunque non rimarrà per più motivi il Presidente della Repubblica non lo potrà eleggere chi ha vinto le elezioni se non mettendosi d'accordo come è giusto con tutta o una parte dell'opposizione perché ci sarà la maggioranza dei 3 quinti ovviamente siccome dicono ma la maggioranza dei 3 quinti di quelli che votano cioè di quelli che quel giorno essendo deputati o senatori vanno in aula a votare il Presidente della Repubblica succede quasi 99% di partecipanti in genere cioè se metà della Camera e del Senato decide che quel giorno lì vuole andare al mare lo eleggeranno quelli che anziché andare al mare stanno a eleggere il Presidente della Repubblica però perché si fa perché c'è tutta una dietrologia voi avete messo i 3 quinti di quelli che partecipano e non di quelli che hanno diritto a votare scusate se entro in questo dettaglio perché così chissà quale marchigegno si può fare no solo per evitare che una minoranza andando al mare impedisca per sempre che venga eletto Presidente della Repubblica noi già abbiamo avuto nella storia millenaria della Chiesa i conclavi che non finivano più finché dovevano scoperchiargli il tetto noi abbiamo semplicemente previsto che ci siano i 3 quinti dei presenti vi dico che c'è stato chi durante la discussione ha criticato questa cosa dicendo che non c'era una clausola di chiusura cioè che alla fine tu puoi andare avanti avere elezioni in cui c'è uno che ha la maggioranza semplice cioè ha il 50 più uno degli elettori ma non raggiungendo i 3 quinti non avremo Presidente della Repubblica è un rischio vero questo di andare troppo per le lunghe ma noi abbiamo ritenuto che fosse un rischio da correre da mettere sul piatto pur di avere un Presidente della Repubblica che non sia espressione solamente di una maggioranza ma che debba avere il consenso l'appoggio e quindi il voto anche di un pezzo dell'opposizione perché siccome deve essere un garante è bene che sia eletto da una almeno dalla maggioranza e almeno un pezzo di opposizione auspicabilmente da tutti o da una grande maggioranza grazie mille Presidente della Repubblica al contrario io personalmente al contrario di quello che dice il Comitato del No leggendo solo la riforma costituzionale io personalmente sono a favore e anche qui col movimento io qualche qualche attrito l'ho avuto il problema dove nasce no no ma no alcuni tuoi colleghi ci provano dal primo giorno sono ancora qua il punto qual è? che preso singolarmente questo articolo è corretto io sinceramente ripeto sono convinto che sia una media sostenibile dove nasce il problema? quando tu abbini questo tipo di lettura con la legge elettorale attuale che dà un premio che poi ci è stato detto che verrà diciamo abolita o modificata perché chiaramente vince a noi però il rischio è semplicemente lì che basta la maggioranza più una piccola parte di opposizione per far approvare la votazione però ripeto io non posso vincolare la modifica costituzionale a una legge elettorale quindi io questo articolo lo vivo favorevolmente sappiatelo quindi in modo tale che al contrario ripeto il Comitato del No con il quale ho discusso anche ieri sera in un altro evento perché ho detto che non bisogna trasformare in maniera strumentale questi passaggi perché ci sono dei passaggi secondo me molto gravi questo non lo è il problema è che tutti chiaramente leggono questa riforma in abbinato con la legge elettorale e sì messi insieme possono esserci dei problemi però se io devo guardare solo questo sono d'accordo sui risparmi che è un tema a cui noi siamo molto legati chiaramente tutta questa riforma è improntata comunicativamente su quell'aspetto il quesito referendario è improntato su quell'aspetto sul taglio dei parlamentari taglio degli costi delle regioni allora CNEL non è un miliardo sicuramente ha fatto un errore il senatore un miliardo il CNEL no il CNEL sono 18 milioni c'è scritto anche questo se vuole ce l'ho qua guardi è roba firmata il ragionista generale dello Stato quindi io se fosse un miliardo l'avremmo no no giuro no ma è un errore immagino sembra che sia il costo cumulato su un periodo di tempo no ma ho detto che costa un miliardo no no sì no no vabbè ma non è un errore ci sta 49 milioni costa il senato come vi ho detto prima sui consiglieri regionali ci facciano due risate allora innanzitutto non è necessaria una riforma costituzionale per abbassare gli stipendi dei consiglieri regionali per due motivi uno perché noi abbiamo già dimostrato che basta tenere fede agli impegni presi con i cittadini noi ci tagliamo gli stipendi senza bisogno di una legge io a dispetto di mia moglie ho ridato indietro 113 mila euro in tre anni per adesso quindi 113 mila euro netti non sono proprio noccioline se ci pensate ma state quante cose si possono fare e noi prendiamo uno stipendio di 3 mila euro netti più ogni spesa rimborsata quindi come vedete anche non è che muoio di fame cioè oggettivamente è uno stipendio degno noi viviamo perché questo è il grande problema quindi non serviva una legge e soprattutto non serviva una riforma costituzionale quello che mi viene da dire anche che mi dà molto fastidio è che per esempio in Regione Lombardia il PD si è candidato con lo stesso impegno nostro e ovviamente non lo rispetta